Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Questa sera parliamo di Sovramonte con il sindaco Federico Dallatorre. Buonasera. Buonasera, parliamo subito di quello che è stato il grande tema di questi mesi, quello che ha fatto vivere le famiglie con il sonno piuttosto leggero e sicuramente anche i sindaci, ovvero la grande emergenza Covid. Come è andata nel suo comune? Beh, come in tanti comuni d'Italia, anche a Sovramonte abbiamo avuto dei problemi sicuramente legati alla positività di certe persone. Siamo partiti, devo dire la verità, in maniera molto soft, quasi non toccati dal problema. Poi via e via che passavano le settimane, purtroppo anche Sovramonte ha avuto problemi di persone positive e di conseguenza anche di persone che sono state messe in quarantena. La maggior parte della popolazione ha rispettato le regole, devo dire la verità che non abbiamo avuto particolari problematiche. Sicuramente la questione lascerà un segno indelebile, sia nella memoria storica delle persone, sia nell'aspetto economico. Già ne stiamo vedendo in questi giorni di luglio e sicuramente poi ci accorgeremo ancora più agosto quanto è diminuita la questione turistica nel nostro comune. Ecco, stavamo partendo bene e questo ci ha dato un colpo di grazia da cui si farà fatica a riprendersi, ma la problematica è che non è solo di Sovramonte, è di gran parte dell'Italia. Ci vorrà tanto impegno a rimettersi in careggiata. Per quanto riguarda la parte economica, non solo legata al turismo, ma legata anche alla normale vita quotidiana, i tanti esercizi commerciali che hanno dovuto chiudere, ci sono mancanze economiche, quindi minore entrate. E se da un certo punto di vista i generi di prima necessità, quindi gli alimentari, hanno avuto un discreto ritorno, siccome la gente non poteva muoversi fuori comune, quindi non poteva andare al supermercato e ha toccato con mano cosa vuol dire avere ancora l'alimentare nelle frazioni, quindi avere la possibilità di avere un alimentare. Se non ci fossero stati, il disagio sarebbe stato sicuramente più grande. Quindi un grazie anche alla categoria che ha tenuto aperto con grande responsabilità. Si è aperto il dopo e il dopo ha portato a riflettere nel Consiglio Comunale, soprattutto in quello legato al rendiconto del 2019, quando abbiamo analizzato quello che era avanzato, di fare una manovra per venire incontro sia alle famiglie, sia agli esercizi commerciali che non hanno potuto aprire. E quindi con una manovra di 20 mila Euro recuperati dalla rinegoziazione dei mutui, perché non sono certo una cicava, però in un momento di grave necessità bisogna assolutamente usare modi estremi. Quindi abbiamo rinegoziato, abbiamo recuperato liquidità subito e l'abbiamo investita negli esercizi commerciali e nelle aziende che non hanno potuto aprire andando a togliere parte della tassazione. O, se questi erano in affitto, parte degli affitti. Per quanto riguarda le famiglie invece abbiamo deciso di occuparci del centro estivo andando incontro alle spese che i genitori sostengono per mandare i figli a quello che è il Grest, il tradizionale Grest e quindi un terzo della spesa viene sostenuta dal comune. Sappiamo cosa vuol dire avere i figli a casa da fine febbraio fino al primo di settembre, quindi è un modo per dire che l'amministrazione vi è vicina e capisce la situazione che si sta attraversando. Non sarà finita, gli indicatori non danno sicuramente buone prospettive, dobbiamo tenere duro e questo è quello che continuiamo a dire a tutta la gente. Quest'anno non ci saranno manifestazioni, non ci saranno fiere a sovramonte. Quello che potranno fare è ritrovarsi al bar, non lo togliamo, ritrovarsi a fare una passeggiata, però teniamo sempre il distanziometro, lo dico continuamente, teniamo lontano, anche perché sovramonte, ricordo, ha metà delle abitazioni di residenti e metà di abitazioni seconde case che vengono da tutta Italia e anche dall'estero, quindi è facile che possa tranquillamente tornare visto che adesso i confini si sono riaperti. Abbiamo detto che sarà un'estate senza grosse manifestazioni, una cosa che invece arriverà sicuramente a settembre è la scuola e lì poi andrà impostato tutto un lavoro di riorganizzazione anche perché tra l'altro ci saranno sicuramente studenti di sovramonte che magari studiano anche a Feltre e qui poi ci si ricollega al problema delle corse scolastiche di Dolomiti Bursa. Sì, allora noi abbiamo la parte della scuola dell'obbligo, quindi le ex elementari, le ex medie e la scuola dell'infanzia che sono tuttora in comune di sovramonte e lì la scuola è nuova, quindi abbiamo la possibilità di organizzarci da un punto di vista degli spazi. Abbiamo anche evitato che venga tolto il tempo pieno perché c'è il problema di come gestire la mensa ma abbiamo spazi attivi molto più grandi di dove attualmente è la mensa quindi è quasi sicuro che trasferiremo la mensa in questi nuovi spazi più grandi così potremo garantire il tempo pieno alle elementari, alle medie che è la risorsa perché in un comune dove la scuola fa pluriclasse perché i numeri sono risicati il tempo pieno è stata la risorsa che ha permesso di tenere alta la qualità dell'educazione. Stessa cosa può essere ammessa anche per la scuola dell'infanzia l'asilo per capirsi, anche lì possono tranquillamente fare il rientro fino alle 4 del pomeriggio perché gli spazi della mensa ci sono, sono grandi non c'è il problema della vicinanza o di come gestire insomma la cucina è nuova quindi non abbiamo problemi particolari questo è, diciamo che nel lato negativo del calo degli studenti abbiamo il lato positivo che avendo spazi enormi anche riusciamo così ad andare incontro alle normative anti-covid spero che si possa veramente ripartire perché non è ancora chiaro invece gli alunni che andranno a Feltre e qui noi abbiamo tre corse insomma le corse quando partono a Soramonte sono anche abbastanza distanziate all'interno della corriera cioè gli alunni hanno spazio però le tre corse poi passano per Fonzaso passano per Pedavena, caricano altri e quindi lì ci sarà sicuramente da tenere presente il distanziometro all'interno delle corse però insomma mascherine avanti tutta un altro luogo appunto pensato anche per i giovani è quello della palestra lì c'è un progetto che sta venendo avanti beh lì dobbiamo dirci finalmente e ha anche un po' ragione la gente il sentore di dire ma quanto ci avete messo cioè da agosto 2012 abbiamo 1.800.000 euro per costruire la nuova palestra e solo qui al mese di luglio possono partire i lavori ci sono voluti, calcoliamo, da 2012 otto anni di burocrazia sono state fatte scelte siamo insieme al comune di Damont sono state fatte scelte al suo tempo di andare con la stazione appaltante della provincia autonoma di Trento probabilmente non tenendo presente che loro hanno una legislazione diversa dalla nostra e quindi questo ha comportato anche dei ritardi si sa quando ci sono regioni ordinarie e regioni a statuto speciale e hanno una normativa diversa qualche volta già la burocrazia è faraginosa per conto suo poi ci mettono anche legislazioni diverse questo complica di più poi ci è messo anche in mezzo il CONI e il CONI non gli andavano bene certi aspetti della nuova palestra perché noi abbiamo voluto che il nuovo edificio che veniva su non fosse solo scolastico ma fosse anche per ospitare certi tipi di partite e fosse anche a normativa di protezione civile che così è l'edificio principale se dovesse capitare speriamo mai a sovramonte qualcosa si sa che almeno abbiamo un edificio che è a norma sismica al 100% mi auguro adesso che il cantiere vada avanti spedito perché la ditta è tra virgolette nostrana per cui spero che almeno questo dia ancora più sicurezza nella popolazione c'è poi un altro tema che è stato toccato prima quello delle seconde case ma poi c'è anche tutto il tema dell'accoglienza turistica per la quale c'è anche un bando e poi ci sono anche dei progetti di promozione sì dicevo prima sicuramente prima del covid l'entusiasmo dato anche dall'avere ospitato il Giro d'Italia ad aver ospitato i mondiali di parapendio aveva caricato sia gli amministratori ma anche gli operatori turistici della zona i tre mesi di covid ha un po' raffreddato gli animi vedo soprattutto nella parte della popolazione perché insomma è quello che forse ha avuto il trauma più grande il settore turistico quindi se lo ha avuto nelle grandi città immaginarsi nei piccoli comuni gli investimenti sono ancora tanti e la promozione è ancora tanto perché sappiamo che il territorio può dare tanto noi insomma ci siamo fatti la nostra idea abbiamo tre settori dove possiamo puntare uno è l'ambiente uno è i luoghi artisticamente di valore che abbiamo fortunatamente all'interno del nostro territorio e il terzo è l'uomo di Varrosna che è questo ritrovamento che tutti ci riconoscono a livello internazionale su questa scia stiamo investendo molto uno dei progetti è quello che uscirà come bando in modo tale che i privati siano poi liberi di usufruire delle risorse riguarda l'aumento della recettività dell'albergo diffuso a Faller e qui le persone potranno far domanda e avranno la possibilità di ricevere un contributo fino al 80% dell'opera loro poi i privati ci metteranno il 20% per completare la ristrutturazione e aumentare la recettività cioè aumentare i posti letto l'altro grande progetto che abbiamo sempre di aumento della recettività abbiamo deciso anche qui è passato tanto tempo ma qui devo dire la verità che l'abbiamo anche fatto passare per pensarci bene perché usare le risorse bisogna cercare anche se le abbiamo bisogna cercare di usarle bene ed è un progetto di recupero di baite comunali abbiamo deciso di fare un investimento di qualità quindi baite da un punto di vista turistico con la presenza di una qualità dell'abitare elevata in modo tale da soddisfare anche magari appetiti diversi dalla semplice famiglia che va in ferie quindi ci sarà possibilità sia per la famiglia semplice sia per la famiglia che cerca un ambiente con molti comfort questo è quello che stiamo cercando di puntare ed è un progetto che è legato a una proprietà che abbiamo in località le laste presso Croce Down e questo per quanto riguarda la parte chiamiamolo così edile per quanto riguarda invece la parte della promozione all'interno del consorzio Dolomiti Prealpi si sta facendo un ottimo lavoro e dobbiamo spingere siamo anche disposti come comune di confine a trovare ulteriori risorse perché sì va bene la stampa del libricino che uno passa a loro prende alla fiera eccetera ma sicuramente la televisione nazionale i mezzi di comunicazione anche extra Italia danno ancora di più una mano l'abbiamo visto con il Giro d'Italia l'abbiamo visto insomma con i mondiali parapendio quello che vuol dire l'importante è insomma essere visibili assolutamente il turista spesso e volentieri anzi ormai sempre cerca i wifi con la fibra come siamo messi a Soramonte? beh devo dire che se guardo intorno a quello che vedo scritto sui giornali o in televisione devo dire che il comune di Soramonte è messo anche abbastanza bene ormai fra qualche settimana il 90% del comune sarà coperto dalla fibra e rimarranno fuori solo due frazioni Moline e Gorna che sono legate alla linea telefonica di Lamont mentre il resto del territorio ormai vola da 100 a 200 mega a seconda di quanto distanti sono dalle cabine di consegna se poi devo raccontare in pochi minuti quello che è accaduto a Soramonte questo la dice lunga perché come il solito la mano destra non parla con quella sinistra perché ben prima ha iniziato in fratelli con le frazioni quelle più elevate quindi Faller mi scusa Salzen Crocedaune e Aune poi è arrivata la Tim che invece ha fatto le frazioni di Servo Zorzoi Faller e Piana Soriva sembrava che dovesse rimanere fuori solo il centro di Soriva per questioni legate alla nuova azienda che si era inserita che era Open Fiber adesso insomma sembra che Tim attacchi anche la cabina di centro Soriva e questo risolve il problema l'uniche due frazioni ripeto perché sono legate alla linea telefonica di Lamont sono moline e gomma vedo che c'è già tanta gente che lavora da casa sia a seguito del lockdown sia anche a seguito delle possibilità date dalla fibra quindi questo ci fa onore insomma io ringrazio le compagnie che ci hanno privilegiato in questo senso anche se dico siamo ai bordi dell'impero però per una volta possiamo ben dirci onorati di questo diciamo che l'infrastruttura del genere riduce un po' la distanza che c'è tra centro e periferia sicuramente guarda ci mette sullo stesso piano a questo punto qua se stai che tu stia in centro a Padova che tu stia a Sovramonte se devi lavorare da casa è la stessa cosa basta avere la fibra che funziona giorno e notte adesso c'è anche un piccolo aiuto per chi decide di rimanere a vivere a Sovramonte il bando residenzialità sì questo era un po' il nostro cavallo di battaglia della mia seconda legislatura si è chiuso il 4 di maggio stanno facendo l'istruttoria sarà pubblicato nei prossimi giorni ha avuto un'ottima risposta sono partiti tiepidi perché avevo quasi paura non si raggiungesse il budget invece alla fine ci sono presentate 39 domande per un totale complessivo di lavori che si aggira sui 5 milioni di euro allora i fondi a disposizione erano un milione del pubblico e un milione e mezzo del privato se sono 5 milioni sono 3 milioni del privato e va bene e ci vorrà insomma il pubblico dovrà andare a recuperare un altro milione ecco io ne abbiamo anche già parlato in amministrazione visto che è andato bene visto che ha avuto una ottima risposta visto che insomma è il nostro cavallo di battaglia perché no non chiudere cioè esaurire tutta la gradatoria salvo che le domande siano tutte a posto insomma ecco salvo che dal punto di vista della documentazione siano tutte a posto questo permette di intanto bloccare l'emorragia perché se uno ristruttura è anche un aiuto uno si ferma ecco secondo permette di recuperare anche l'aspetto urbanistico in quanto insomma vedi la catapecchia nel centro del paese o vedi una casa ristrutturata il paese cambia da così a così e poi dovremmo anche adesso vedrò insomma alla fine come va la gradatoria cercare anche magari di aumentare di qualche unità che sarebbe ancora l'ottimo insomma certo che non si può pensare che tutto sia come nelle province autonome di Trento e Bolzano perché loro sono più di 60 anni che hanno delle leggi speciali noi abbiamo dal 2010 11 quindi tempo insomma ci vuole tempo non è che dalla sera al mattina la popolazione aumenti come invece è capitato di là insomma a seguito della loro autonomia abbiamo parlato quindi questa sera degli sforzi dei progetti di sovramonte per abbiamo visto i residenti ma in fondo anche per accogliere meglio i turisti il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato quindi salutiamo e ringraziamo il sindaco dalla Torre saluti buona serata e allora buona continuazione grazie a tutti